Ed eccoli qui, innamorati più di sempre, Gelsomina e Casimiro non erano qui a San Valentino perché erano a Parigi a festeggiare il loro amore nella patria dell'amore, la Francia e Parigi. E poi saranno andati a Venezia, al carnevale che non c'era, ma il loro amore e la love story che incanta il mondo. Un abbraccio dalla costa d'Amalfi.